allora quest'anno la programmazione parte con un po di ritardo ma tranquilli che parte il paradiso sarà fatto sempre in dieci serate ma quest'anno non una volta al mese ogni due settimane sarà le brasserie bordeaux mentre invece l'inferno partirà una volta al mese al a quello che sarà forse il caffè pro cop comunque vi farò sapere al più presto per il purgatorio invece bisognerà aspettare almeno gennaio perché ci sono stati dei problemi di programmazione di organizzazione per il resto dovremmo riuscire a partire tra poco soprattutto tra poco dovremmo riuscire a pubblicare le date per cui insomma rimanete sintonizzati come si dice in questi casi stay tuned e qualcosa ne uscirà di buono quindi ricapitolando adesso partiremo abbastanza in ottobre partiremo con con paradiso e inferno e per il purgatorio aspettiamo genuori gennaio invece invece per i lavori di idraulica chiamate il numero in sovraimpressione anche la domenica mattina buona giornata a tutti